Musica Sempre se si pronuncia così mi chiede E' nato prima l'uovo o la gallina? Il cazzo Sakura Diamond 97 Sempre se si pronuncia così mi dice Ho visto che l'anno scorso sei andato per la prima volta a Seoul Ti ha entusiasmato tanto quanto Tokyo? No! Non lo è! No! Davide, schiavone, cosa ti è piaciuto di più nel primo viaggio in Giappone? Sono le persone che sputano per terra C'è proprio questa moda, questa mania di scatarrare per terra Oikura Sodaci mi scrive Bicchiere E' mai fatto sesso ed era presente qualcun altro nella figa? Sì, una statuetta Un cigno, telefoni Proprio soprammobili E non soprammobili di legno così Sopramobili proprio quelli belli pesanti E anche una volta un bicchiere Comunque se avete domande ragazzi scrivete qui sotto Che dire? Spero vi sia piaciuto ragazzi questo video Un pollice in su è sempre apprezzato Preferiti se volete un commentino lasciatelo qua sotto E ci vediamo con il prossimo video Ciao ragazzi!